Abbiamo pensato a questo progetto per rilanciare e valorizzare quello che si può essere fatto con la gabbinovia dei prati di Tivo anche fuori dallo sci, quindi d'estate a primavera ci sono sei percorsi mountain bike ma possono essere anche percorsi fatti a cavallo, a piedi, quindi trekking, fatti proprio dalla Madonnina a scendere. Questo noi abbiamo pensato per un rilancio di questa struttura bellissima che è la gabbina dei prati di Tivo che è anche l'unica del centro Italia attrezzata per i disabili e quindi adesso faremo anche un convegno dove presenteremo questo progetto agli albergatori e alla zona del mare perché noi abbiamo un milione di visitatori al mare. Se riusciamo a portare qualcuno di queste persone a vedere la cima più alta degli Appennini possiamo rilanciare un po' il turismo di un posto bellissimo e fargli conoscere dei posti fantastici che sono di noi sfruttati quasi solo d'inverno ma sono bellissimi anche d'estate. Noi come Gran Sasso Terramano abbiamo ritenuto opportuno e utile dare il nostro piccolo contributo per la realizzazione di questa pubblicazione perché noi crediamo molto in quella che è l'attività di sviluppo e di promozione del territorio. La SD MTB Teramo si è occupata della realizzazione di questo progetto, proprio della parte tecnica, quindi di andare a tracciare questi percorsi proprio sul territorio. Sono sei percorsi che sono fruibili in mountain bike e anche con del trekking a piedi e chiaramente noi poi offriremo anche il servizio di accompagnamento a queste persone che offriranno di questi pacchetti turistici.